Benvenuti ad Agrigento, una delle città più affascinanti e ricche di storia del sud Italia. Ma vi siete mai chiesti da dove proviene il nome di questa antica città? Oggi vi porto in un viaggio unico, alla scoperta delle origini del nome Agrigento, un nome che ha attraversato i secoli, cambiando volto e significato. La storia di Agrigento inizia nel secolo VI a.C., quando i greci fondarono la città e la chiamarono Akragas. Questo nome, probabilmente legato al fiume che scorre vicino alla città, rappresentava l'essenza della sua posizione geografica, un luogo alto e imponente. Akragas era una città potente e prospera, simbolo della grandezza della Magna Grecia. Ma la storia del nome di Agrigento non finisce qui. Nel 210 a.C. la città venne conquistata dai Romani durante le guerre puniche. Il nome Akragas venne latinizzato e trasformato in Agrigentum. I Romani, come sempre, vollero adattare il nome alla loro lingua, mantenendo un legame con il passato greco, ma sottolineando il loro dominio sulla città. Sotto il nome di Agrigentum, la città continuò a fiorire, diventando un centro importante dell'impero romano. Nei secoli successivi, la Sicilia e Agrigento vissero un periodo di grandi trasformazioni. Nell'anno 831 d.C. gli arabi conquistarono la città, portando con sé una nuova cultura e un nuovo nome, Kirkent. Gli arabi, con la loro raffinata civiltà, introdussero nuove tecniche agricole e trasformarono la vita quotidiana degli abitanti. Il nome Kirkent rifletteva questa nuova epoca di dominazione araba e di grande cambiamento per Agrigento. Ma la storia di Agrigento era ancora destinata a cambiare. Nel 1065 d.C. i normanni presero il controllo della città e il nome divenne Girgenti. I normanni portarono una nuova era di dominazione cristiana, con chiese e fortificazioni che ancora oggi segnano il territorio. Girgenti fu il nome che la città portò per quasi 900 anni, attraversando epoche di prosperità e difficoltà. Infine, nel 1927, durante il periodo fascista, la città di Girgenti venne ribattezzata con il nome che conosciamo oggi, Agrigento. Il regime fascista, nel tentativo di ricollegarsi all'antico splendore romano e greco, volle ridare alla città un nome che richiamasse la sua antica gloria. Così Agrigento divenne nuovamente il nome ufficiale della città, un nome che portava con sé tutto il peso della sua millenaria storia. Agrigento è quindi molto più di una città. È un luogo in cui si intrecciano millenni di storia, culture e popoli. Da Acragas a Agrigentum, da Kirkent a Girgenti fino a Agrigento, ogni nome racconta una parte di questa incredibile storia. Ogni nome rappresenta una fase di dominazione, una civiltà, un modo di vivere. Se anche voi siete affascinati dalla storia di questa città e volete scoprire altre curiosità sul nostro passato, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Oggi, quando camminiamo per le strade di Agrigento o ammiriamo i suoi antichi templi, possiamo sentire l'eco di tutte le civiltà che hanno chiamato questa città casa. Agrigento non è solo un nome, è una testimonianza viva della nostra storia. Una città che ha visto secoli di conquiste, trasformazioni e rinascite. Una città il cui nome continuerà a risuonare nei secoli.